buongiorno io sono renza sono medico e sono qua a proporvi alcuni corsi e con l'associazione del punto zero e quello che vi voglio proporre oggi è un corso di floriterapia e io seguo da molti anni dei cammini di guarigione dei percorsi di guarigione e seguo molti guaritori e tutti lavorano sulla cellula e sulla capacità espressiva a livello elettrico di sistema nervoso della sua potenzialità in questi giorni mi sono trovata a studiare un guaritore che è passato proprio in italia in questo periodo che si chiama René May questo guaritore ha creato una serie di terapie basate proprio sulla risveglio elettrico della colonna vertebrale e di quelle cellule che lui chiama emozionali che attraverso uno stress un disagio un conflitto rispondono in maniera disarmonica o attraverso appunto dei sintomi delle patologie il mio lavoro di ricercatrice mi ha sempre portato a lavorare sulle cellule sulla loro potenzialità elettrica con la neural terapia e anche con i fiori di Bach la mia maestra riguardo alla floriterapia è stata la Gabriella Mereo con la quale lavoro spesso e i fiori posso dirvi che sono veramente una grande poesia e sono delle chiavi per comprendere profondamente i pazienti la loro personalità le cose che non riescono a raccontarvi o a dirvi di loro ma che si esprimono attraverso i loro sintomi lavoreremo con la mappa di Kramer che è una mappa favolosa perché ti permette di vedere attraverso i sintomi nelle specifiche zone proprio la storia del paziente e la sua personalità parleremo di parole chiave parleremo di come un fiore anche solo attraverso la sua immagine o la ripetizione del nome può dare un'informazione alle cellule del nostro corpo è un corso secondo me affascinante parleremo anche di fiori australiani e di qualche fiore alchemico e andremo a vedere come prescrivere questi fiori e come anche far sì che questi fiori ci sono le epifanie necessarie per comprendere chi abbiamo davanti e anche per aiutare noi stessi vi aspetto vi abbraccio grazie